Benvenuti alla stessa giornata adattata per l'appenaggio di Serie 1 femminile. Presentiamo la squadra 8, Palamaro Pasalcani Padano, con il numero 16, Passi Moreno, con il numero 23, Betanè Greco, con il numero 11, Dattati Gini, con il numero 8, Franco Francesco, con il numero 10, Fondamenti Vecchio, con il numero 5, Fondamenti Vecchio, con il numero 12, Salota Mare, con il numero 3, Artiglia Viglia, con il numero 18, Artiglia Vecchio, con il numero 14, Artiglia Vecchio, con il numero 19, Grazie Mariano, e con il numero 13, Grazie Mariano, con il numero 6, Tempogliata, con il numero 13, Lidia Vecchio. Presentiamo la squadra 9, ma nella stessa giornata, l'anno di San Filippo, con il numero 18, Benvenuti Vecchio, con il numero 8, con il numero 8, con il numero 17, con il numero 17, con il numero 18, 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.